Ciao, io mi chiamo Margherita e ho 37 anni, sono una nutrizionista. Io sono Gabriele, ho 29 anni, sto entrando in questo mondo da poco, mi voglio buttare nello sport perché la mia passione penso di riuscire a rendere veramente tanto in questo settore. Ho conosciuto la UEPA tramite internet e pubblicità su Facebook. Ho conosciuto la UEPA in una palestra che frequentavo, ho visto i corsi che facevano lì e mi sono informato anche su internet e su Facebook. Del corso di formazione ho apprezzato maggiormente la professionalità dei nostri docenti che seppur giovani hanno veramente un bagaglio enorme. Io oltre la professionalità dei docenti ho apprezzato molto la loro disponibilità e il loro, come dire, farti sentire a tuo agio mentre ti insegnano tutte le nozioni che ti servono. Consiglierei i corsi ad altri istruttori e anche i miei colleghi di certo. Sì, l'ho già fatto, ho già iniziato a condividere questo percorso con amici e colleghi. Ciao, io sono Margherita. Ciao, io sono Gabriele. Vi aspettiamo al prossimo corso UEPA. Ciao!